Salve popolo digitale, in questo video parlerò del mio modello di terra, o meglio del modello di terra in cui può funzionare il sistema di una terra tonda. Perché come dico sempre, su un modello di terra piatta è tutto più facile dato che è un sistema a due dimensioni, o meglio piatto. Poi parlerò di come viene generata la gravità ed infine vi mostrerò qualcosa che ha a che fare con l'acqua. Dunque il mio modello è questo, una palla su un piedistallo racchiusa in un'altra palla di vetro condisegnate sopra le costellazioni. All'esterno ci sono il sole e la luna, questi due corpi camminano su delle rotaglie alimentate o manipolate con il ghiaccio secco e azoto liquido, affinché i due corpi possano fluttuare sulle rotaglie per poterci camminare su relativamente all'infinito. Inoltre le due rotaglie si alzano e si abbassano generando le stagioni e le maree, sempre se è vero che la luna condiziona gli oceani. Infine abbiamo il piedistallo che è un generatore di elettrostatica e che quindi genera la gravità, permettendo comunque di muoverci liberamente nello spazio che ci circonda, come ad esempio saltare, volare, eccetera, anche perché abbiamo l'area che gioca un ruolo fondamentale nella fisica terrestre. Ed è qui che si trovano tutte le possibili spiegazioni al perché l'Antartica è una grande area di ghiaccio ed il perché su un Google Map viene censurata l'area centrale dell'Antartica, perché è inaccessibile dato che vi è collegato il piedistallo, in cui all'interno c'è un sistema di raffreddamento per non farlo surriscaldare mentre genera l'elettrostatica. Forse questo è il motivo per cui parlano del surriscaldamento globale. Inoltre, da alcune foto del passato, si può osservare che chi c'era prima ha terraformato la Terra, quindi i continenti di ora forse sono strutture artificiali, ed i mari si sono formati perché il sistema di raffreddamento del piedistallo che genera l'elettrostatica sulla Terra, forse era stato sorvalimentato, ed è per questo motivo che ha congelato la Terra. E man mano che si scioglieva il ghiaccio, si sono formati gli oceani nelle vasche di terra scavate in passato, ed è per questo motivo che gli oceani non curvano, perché la Terra sotto di essi non è curva come la Terra, ma è concava, quindi l'acqua in superficie la vediamo piatta, ed è per questo motivo che riusciamo a vedere da una costa all'altra. E a proposito di acqua, ecco un paio di clip. Che bello il segno dell'acqua sulla colonna. Ditemi quanti di voi hanno capito subito che si trattava di computer grafica. Avete visto come è realistica? È così realistica anche nel suono. Ora vorrei sapere come ci si può fidare di ciò che vediamo in TV o magari anche nei filmati NASA, dato che la computer grafica non permette più di distinguere la realtà dalla finzione. Grazie. Comunque, infine, per collegare l'acqua al modello di terra mostrato, vi dico che l'unico modo in cui l'acqua può curvare sulla Terra tonda è l'elettrostatica. Ed è anche per questo motivo che avevo detto che forse il piedistallo venne sovralimentato fino a congelare la Terra, per permettere che tutta l'acqua rimanesse attaccata alla Terra senza schizzare via. Ma l'avevano sovralimentato troppo, fino a causare la famosa era glaciale. E siccome il piedistallo è comunque collegato alla Terra, va a congelare una piccola aria che noi chiamiamo Antarctica. Però ora starete pensando che se fosse reale questo modello, si dovrebbe vedere il piedistallo. Beh, e invece no. Perché se consideriamo che il piedistallo è riflettente come uno specchio, noi non lo vedremo perché si mimetizzerebbe con il cielo. Inoltre il piedistallo può essere talmente corto da essere visibile solo se ci si trova nei pressi dell'Antartica. Comunque questo video finisce qui. Nel prossimo video a tema, vi spiegherò perché il giroscopio non funziona come prova del movimento della Terra e su come seguire correttamente l'esperimento. Ciao e al prossimo video.